Il consigliere di Movimento Libero, Angelo Mazza, torna sul passaggio di Arturo Giglio al PSI ad una settimana dall'annuncio in Consiglio Comunale. Un'occasione per commentare anche il ritorno di Ernesto Sica nell'Assise, suo nuovo collega in minoranza. Questo passaggio in maggioranza, che non sta a me giudicarlo, è semplicemente un mio pensiero, quando nasce da un input di un consigliere regionale diventa semplicemente un qualcosa di personale. Mi dissocio anche dai termini utilizzati da compra-vendita e anche dai termini utilizzati in alcuni momenti dall'attuale sindaco, che secondo me sono i termini che devono stare fuori dal Consiglio Comunale. Ma sicuramente un'analisi politica non è un percorso giusto anche di avvicinamento alla maggioranza. Ma nominando e soprattutto tirando fuori un consigliere regionale, ritengo che noi stiamo ancora di più consegnando il nostro territorio a persone che vengono dall'esterno. Poi c'è da sottolineare anche un dato che quasi sicuramente è emerso in Consiglio Comunale. L'ha smentita o quasi un qualcosa che va contro tendenza a quello che aveva detto Gio, di un rappresentante della maggioranza che oggi rappresenta quella lista insieme. Perché io non ho capito ancora oggi se Gio è indipendente o ha aderito a un gruppo consigliare. Quindi diciamo c'è poca chiarezza sul lato politico. Poi sul passaggio alla maggioranza ognuno di noi è libero di fare i propri percorsi. L'ingresso di Ernesto Sica, partiamo da un dato, Ernesto Sica non è stato eletto. C'è un consigliere comunale della lista Lega che fa un passo indietro, la legge gli consente di entrare in Consiglio Comunale. Non penso che siamo noi oggi tenuti a dire che Sica non deve entrare in Consiglio Comunale. Sica starà in Consiglio Comunale. Ci sono in minoranza, a quando sembra, quattro forze politiche, quindi non è un solo gruppo consigliare, ma ognuno con la propria identità, che nel momento in cui si devono fare degli atti congiunti si faranno. In alcuni momenti ognuno porterà la propria cosa e manterrà la propria identità, come è giusto che sia. Quindi io dico Sica è in Consiglio ed è giusto che ci sia, lo prevede la legge. Quindi non è che dobbiamo fare i tifosi di Sica o contro Sica. Poi tutte le strumentalizzazioni sono dovute se le fa chi le vuole fare. Per me io devo dare un giudizio su quello che l'ho operato. Ernesto Sica entra in Consiglio perché la legge glielo permette. Mario Vivone, ribadisco il concetto, è stato molto coraggioso a fare questa scelta. Non entro neanche nel merito perché non sta a me oggi giudicare. Però sul mio pensiero i due atti sono due atti che nello stesso tempo lasciano un po' perplessa la cittadinanza. Secondo me la confusione nasce su questo perché non è chiaro né il passaggio di Giglio in maggioranza e non è chiaro neanche le dimissioni di Mario Vivone. Diciamo che il tempo darà le proprie risposte.